Se in questi giorni la città di Agrigento è costretta a fronteggiare l'emergenza rifiuti, nella vicina Favara le cose, anche se non manca la raccolta, dal punto di vista sanitario non sono certamente migliori. In redazione sono giunte diverse segnalazioni sulla prassi, oramai consolidata, di prelevare i rifiuti dalla discarica abusivamente legalizzata di Viale Berlinguer, senza però poi provvedere al risciacquo della strada. Conseguenza è l'odore nauseabondo sprigionato dai residui di percolato che investe chiunque transiti la trafficata arteria urbana. Rischi per la salute pubblica che sono amplificati anche dalle elevate temperature di questi giorni. Ricordiamo che nelle vicinanze della discarica sono presenti, oltre ad alcune attività commerciali, anche abitazioni private. Persone che sono costrette a mantenere chiuse di giorno e di notte tutte le aperture delle proprie abitazioni. E pensare che proprio di fronte alla discarica abusiva c'è un centro che si occupa di disabili. La presenza di una struttura sensibile come quella dell'Anfas in altre città europee, probabilmente, sarebbe bastata ad indurre gli amministratori a porre fine allo scempio che quotidianamente si presenta in Viale Berlinguer. I cittadini invitano il sindaco, nonché loro vicino di casa, a chiedere e ottenere dalle ditte incaricate non solo il ritiro della spazzatura, ma anche la pulizia della strada. Occorrono dei mezzi speciali che lavino il manto stradale. Quella dei cittadini favaresi sarà una richiesta impossibile? Staremo a vedere.